Stasera Sampdorri Ascoli chiuderà la giornata, Parma vince, Cremonese vince il big match col Como per 2 a 1, il Venezia vince e quindi i primi tre posti rimangono collaudati con primo Parma, seconda Cremonese, terzo Venezia, Como che scivola al quarto posto, al quinto posto sale il Palermo che vince Alecco, respirano di nuovo con grande soddisfazione sia lo Spezia che il Feral Pissalò, Feral Pissalò va a vincere 3 e 2 a Modena, lo Spezia vince in casa, incomincia a tornare a respirare per la lotta per la salvezza, una lotta per la salvezza che in questo momento vede probabilmente solo l'Ecco staccato, è un dispiacere anche per la situazione che è accaduta all'Ecco dove è andato via anche il direttore sportivo, insomma una situazione un po' particolare per una piazza che era gradevole ed è gradevole averla in serie B, indubbiamente per la lotta per quanto riguarda la lotta per i playoff ci sono anche Catanzaro e Cittadella che tendono a non mollare il passo e per la lotta per non retrocedere credo che ad oggi sia racchiuso in un gruppetto di 5 squadre, comunque una serie B che ci sta regalando enormi 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 emozioni.